Come è loro? Con questa l'accesso, per cui ho scritto un saluto per voi tutti. Buonasera a tutti, sono emozionata e felice di partecipare a questa bella manifestazione per ricordare con i vostri iscritti il grande Pino Daniele. Sono qui anche per ringraziare due poeti napoletani che ci hanno onorato per la loro partecipazione alla terza edizione del concorso nazionale di poesie nere da Montepagano, a Rosetta di Capolotti. Per cui consegno l'attestato di partecipazione alla bravissima poetessa Clasica Raffaele. Grazie. Grazie. Se vi concedete vorrei spettare le due parole per Giovanni Sroce, che in poco tempo ha conquistato la simpatia e l'amirazione di tanti abruzzetti. Persona straordinaria, aliena, ospitale, buona calentuoso, che ama l'arte in tutte le sue espressioni. In occasione di un recito di poesie, l'estate scossa a Pineto, presso la Riberboa, ci dicevano dovete sapere che nella vita tutto è poesia, il mare è poesia, lo scoglio è poesia, l'aria è poesia, l'amore è poesia. Sta a noi guardare oltre per leggere la bellezza. Batte il cuore con un po' di silenzio. Io credo che chiunque può dare forma ai tuoi pensieri, sublimare i tuoi dolori, ma ciò non implica essere un poeta, lo è, chi riesce a condividere con i propri lettori in modo intimo e profondo. La poesia è un po' alla vita, un' storia di sensazioni ed emozioni personali da poi di vivere, per cui è necessario conoscere fino alla vita quotidiana un momento di poesia per riscoprire qualcosa che forse noi abbiamo dimenticato. A questo punto ringrazio tutti e con piacere consegno un premio speciale assegnato a poeta Giovanni Croce. Grazie.